oh e adesso si trotta che facciamo pitti giocamo dr jackie di mr ride che facciamo pitti circuitone va bene circuitone che mi fa sudà ciao ciao 21 stacchi rumeni 21 spinte un minuto 15 15 15 2 minuti 9 9 3 minuti 9 9 9 3 minuti cioè 9 trazioni 9 stacchi rumeni 9 spinte 9 spinte 3 minuti di bike fatto tutto questo fatto tutto questo fatto tutto il tomaro vabbè capito ragazzi così bruciamo la ciccietta quando vuoi recupera di nuovo in ginocchio tirate giù 5 4 3 2 1 partì 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 via giù porto le gare stendi tutto stendi tutto stendi second cold shower of the day and off we go to another quick meeting because i'm gonna see a land that i love and i'll see if we can get a good deal i hope you guys are having a beautiful day and you've been as active as you can don't wait until you get too old to see what your body can do love you guys ragazzi ci vediamo tra un'oretta in diretta mi raccomando fighissimo ragazzi abbiamo una sfida mi dovete aiutare la mia squadra deve vincere mi raccomando voi siete la mia squadra quindi fra un a 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 la a a a a a scendi dal piedistallo reginetta Grazie a tutti Don't send us emails or complaints Because you guys are buying stuff That it's clearly Me in the photos Like this one it's me This one it's me This one it's me That's me But that's not us That's not know how This is not who we are What we're selling It's fake So please be careful on that They're just stealing our photos And selling stuff Buy on noahstyle.com only Allora ragazzi per chiunque avesse visto la diretta Che potrete trovare sulle mie stories Mi raccomando ricordatevi di partecipare ai Next Image Awards Nella mia categoria ovviamente di storyboard Quindi storytelling E ricordatevi di lo sconto Vi avevo detto che ve lo avevo riscritto Il codice è questo qui che vi scrive in sovraimpressione Andate e fate swipe up Potete andare sul sito e prendete il 10% Usando il mio codice a Mariano Huawei Se lo volete fare Ovviamente ragazzi avete uno sconto Potete comprare il P40 anche voi Il tablet e tutte le cosine Che abbiamo fatto vedere ieri Ciao Ragazzi I almost eagled it From 100 yards Let's do it Thanks to Custom Lab For my beautiful wedges Personalized with the names of my kids So the 56 is dirty Which is the middle one 52 which is the longest one Is Leo Which is the older Brother And 60 Which is the smallest brother Is 60 degrees Which goes shorter Thank you guys Check it out Custom Lab Ragazzi Io non so se sono i Sendini di Custom Lab Almost all in one Cioè Almost all in one Se ne andate Ti vicini Grande No vabbè ragazzi Paccato Ragazzi Penso che ho imbucato di volo No vabbè Ma che rumore ha fatto No vabbè ragazzi Eagle addirittura Non bird Cioè 5 bird Oddio è un eagle No vabbè ragazzi Prima volta che mi sono Secondo eagle a Perugia Nel giro di una settimana Nella mia vita No vabbè Ho sfondato il cosino di plastica Bellissimo Amiche Guarda Guarda No vabbè Bellissimo Complimenti Cazzo 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 Lion Perché non tagliamo i capelli Tu vuoi troppo Cazzo Perché no Mi mangia cazzo Io Sto rupendo questo Mi dividerebbe meglio Non taglio il capello Se no mi tagli i capelli a me Carne carne Taglia erba Taglia erba Vuoi tagliare i capelli Con taglia erba Non taglia carne No Che fai Disegni Guarda che bella Qui c'è la musica Una bella console Qui c'ha suonato lui Vega Chandler Tanta tanta gente Ti piace la musica E ci sono tanti bei vini Una bellissima cantina Con la console incorporata Ti piace? C'è pure la palla con la luce Guarda la sua Ciao Ciao